Particolare come il pezzo che stiamo andando a presentare, come l'artista che stiamo andando a presentare perché lui è un fachiro famoso in Sicilia, soprattutto a Palermo, che fa dei numeri veramente particolari quindi usciamo un attimo dalla comicità per entrare nel mondo tenebroso dell'illusionismo dell'illusionismo con Cristian Carabessa! Grazie! 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 Luca Carabessa! è bellissimo grazie Cristian è bello perché per farlo venire abbiamo dovuto creare questa botola qua sotto dove lui si è andato a inserire e funziona Cristian Calapezza grazie mille ragazzi buona serata grazie